Hanno richiesto la libertà e di riavere indietro 25 milioni di euro. I legali di Antonio e Andrea Moretti, padre e figlio, finiti agli arresti domiciliari dopo il maxibilizza della Guardia di Finanza di Arezzo, hanno infatti presentato ricorso al riesame chiedendo la sospensione del provvedimento scattato lo scorso 23 novembre. Stessa richiesta avanzata anche dai legali di Paolo Farsetti e Marcello Innocenti, rispettivamente responsabile della linea di abbigliamento e ragioniere del gruppo, anche loro finiti agli arresti domiciliari. Per i quattro l'accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all'autoriciclaggio e alla commissione di reati bancari e fiscali. Era stato inoltre disposto anche il sequestro di 14 società e beni per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro. Tutti e quattro la scorsa settimana avevano fatto scena muta di fronte al GIP Pier Giorgio Ponticelli nel corso dell'interrogatorio di garanzia, scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ed adesso arrivano le istanze al tribunale del riesame, ai giudici fiorentini per la revoca degli arresti domiciliari, a quelli a retini invece per chiedere il dissequestro dei 25 milioni di beni sequestrati.